In questo video vediamo come funzionano i manubri regolabili e queste sono quelle principali che io ho preso su Amazon di varie marche però il principio di base è sempre lo stesso e anche il design già così in partenza ovviamente vediamo la differenza rispetto ai manubri tradizionali che siano Amazon o Decathlon e ovviamente i manubri tradizionali hanno i loro limiti nel senso che possono portare fino a un certo carico e sicuramente per fare piramidali o drop set a casa sono scomodi perché perdi tempo ad aggiungere e togliere dischi in questo caso invece non sono molto comodi perché in termini assoluti magari possono costare tanto rispetto a dei normali manubri che in realtà poi non è una sezione anche paragonale con dei manubri tradizionali però costano poco rispetto a un'intera rastraliera questi manubri in particolar modo vanno dai 2,5 ai 24 se non ricordo male esatto quindi praticamente immagina di avere un'intera rastraliera che va da 2,5 kg a 24 con tutte le coppie occupa molto spazio e costa tanto in questo caso invece quindi il rapporto quindi il confronto non ha senso fare con dei manubri tradizionali ma con dei manubri in termini di rastraliera e con le varie coppie quindi il costo all'investimento è sicuramente inferiore il meccanismo di base è molto semplice io seleziono il peso ad esempio 8 kg 6,5 non è importanza ovviamente lo stesso da entrambi i lati quindi qua è già selezionato 6,5 se io vado a girare ovviamente lui è già selezionato dopodiché vado a sganciare il manubrio quindi fondamentalmente lo sgancio lui aggancia i dischi necessari perché il manubrio pesi 8 kg quindi è molto comodo per questo dopodiché se lo vado a reinserire di nuovo ho tutti i dischi ancora una volta è selezionato 6,5 quindi per cambiare il peso devo girare la rotella 8 kg di qua, 8 kg dall'altra parte sollevo e lui aggancia i dischi necessari perché appunto il tutto sia di 8 kg quindi ovviamente è intelligente perché mi permette di fare a parte avere un'intera rastralia quindi nel corso del tempo mano a mano che progredisco nei vari esercizi di fatto io ho un'intera rastraliera in un metro quadro con anche il supporto che è molto comodo per non averli a terra e dopodiché è comodo perché se io mi alleno a casa magari faccio piramidali o drop set i drop set soprattutto nei quali non ho pause sono comodi perché per l'appunto mi permettono di non perdere tempo se avessimo i manubri tradizionali così dovrei prendere tantissimi dischi che mi occupano spazio e ogni volta armeggiare fra una serie e l'altra per raggiungere il disco invece in questo caso semplicemente io giro la rotella che sia un drop set quindi magari riduco il peso oppure un piramidale che aumento seleziono lo stesso carico da entrambi i lati sollevo il manubrio lui si sgancia quindi come abbiamo visto prima seleziono soltanto i dischi necessari perché il peso sia di 6,5 in questo caso gli altri rimangono ovviamente nel supporto quando lo reinserisco posso poi dopo girare la rotella selezionare un altro carico 8,8 ad esempio sollevare e avere per l'appunto 8 kg e proseguire col mio piramidale oppure scendendo con un drop set quindi sono assolutamente imbattibili in termini di comodità l'investimento vale la pena se uno è già avanzato oppure eventualmente anche all'inizio solo se uno è veramente motivato perché se li prendi poi dopo un mese non tra l'anni più l'investimento non si ripaga se invece vai avanti per anni si ripaga perché sono molto comodi e anche il supporto nella sua semplicità ha senso perché ovviamente non devi sollevarli da terra quindi sicuramente e sono veramente molto molto intelligenti e basta per l'appunto girare la ghiera selezioni il carico da entrambi i lati sollevi e hai il manubrio giusto puoi fare tantissimi esercizi e l'unico limite forse oltre al prezzo che però ripeto io rispetto all'interno della straliera non è tanto è il fatto che comunque anche quando magari pesa soltanto 6,5 come in questo caso qua comunque è molto alto o lungo dipende dai punti di vista quindi di fatto può essere scomodo in alcuni casi perché ovviamente mettiamolo qua lui è molto lungo quindi sicuramente quando io uso carichi inferiori ho dei manubri più piccolini in questo caso invece l'ingombro è sempre lo stesso a prescindere dal carico che utilizzo ovviamente in questi casi lui non ha non ha preso i dischi perché ovviamente il carico è sempre è inferiore però comunque ho l'ingombro che è molto elevato anche se pesa soltanto 6,5 se invece fossi in palestra o a casa e avessi un manubrio da 6,5 avrei un manubrio che sarebbe lungo non più non oltre qua quindi qui ho altri 10 15 centimetri che mi occupano che magari potrebbero darmi fastidio quindi sicuramente quello può eventualmente essere il limite però al netto di questo e dopo per l'appunto lo reinserisco così al netto di questo non è un problema quindi è poi relativo la cosa insomma è un prezzo metaforico che si paga quindi questo è un po' i manubri regolabili ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online con il mio servizio grazie a tutti